Siamo con mister Ascoli del Maccabi, un'altra vittoria, l'ennesima stagionale. Se forse c'è da fare una piccola critica, si può fare in fase di realizzazione nei primi 40 minuti. Mister, avete fallito un po' troppe occasioni da gol? Sì, sono d'accordo con te, anche se poi faccio un giudizio generale. Il primo tempo, nonostante qualche gol sbagliato, palla-gole sbagliati troppo, il gioco è stato molto molto buono. E poi chiaramente è vero che sbagli i golli, però vuol dire che comunque hai creato tanto. Secondo tempo malino, molto nervosi anche tra di noi. Potevamo e dovevamo fare meglio e chiudere definitivamente la partita. Perché poi comunque loro qualche occasione, soprattutto con una palla salvata sulla linea a pochi minuti dalla fine della partita, poteva rovinarci la serata. Ti chiedo due cose, mister. La prima, un pensiero sulla semifinale, affronterete l'Alba Roma. La seconda, hai parlato un po' di questo calo di concentrazione, un po' di nervosismo. Da cosa potrebbe essere dovuto? Forse il primo tempo giocato in quel modo, perché comunque avete giocato molto molto bene, vi ha fatto abbassare un pochettino la concentrazione? Mi auguro di no. Potrebbe essere una lettura la tua giusta. Mi auguro di no, perché anzi, a quel punto devi capire che magari l'avversario sta un po' in difficoltà e dovresti continuare a mettere al sicuro il risultato. Ci può stare quello che hai detto. Non giustifica proprio il nervosismo interno, sinceramente. Quindi quello è un po' da riparlare con i ragazzi. Sulla semifinale? Sulla semifinale sarà un'altra bellissima partita contro l'Alba Roma, quindi non vediamo l'ora che arrivi lunedì prossimo.